Oggi inizia la Silicon Valley Sports League che è praticamente un torneo di vari sport quindi baseball, soccer, football, basket, tutto che si svolgerà a San Francisco e Palo Alto nei prossimi due mesi tra le grandi aziende della Silicon Valley sticcazzi LinkedIn adesso sono le ultime partite credo Lumus Labs controlliamo sono più che altro adesso startup un po' più giovani ah questi sono i ragazzi di 99design che hanno fatto che hanno praticamente un marketplace per designer contro Luminosity poi qua abbiamo Vungle contro i ragazzi di Startup Weekend stiamo preparando il field oggi è la giornata del football tutto quasi pronto tra poco si inizia primo match Square contro Lyft oggi sono nella Challenge Zone poi vi faccio vedere cos'è non è nulla è 30 secondi da ora ho un pochetto ho un pochetto all right, i'm over here Charles all right good throw yo, yo right there, right there here, here too many at once too many at once ultimo giorno per una della finale squad distrutto oh what matter oh go 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 Grazie a tutti.